2 febbraio 1594 muore a roma giovanni pier luigi da palestrina chiamato da papa giulio terzo quale maestro di cappella di san pietro in vaticano palestrina compone un enorme corpus musicale molto apprezzato anche dai suoi colleghi del tempo ancora oggi i mottetti e le messe di palestrina sono eseguiti sia in concerti che durante le funzioni liturgiche